I carabinieri della compagnia di Cantù hanno tolto dalla strada 8,5 kg di hashish, droga che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare agli spacciatori oltre 50.000 euro. I militari hanno inoltre sequestrato un ingente quantitativo di banconote di grosso taglio divise tra euro e franchi svizzeri, un elemento questo che fa ipotizzare come uno degli spacciatori arrestati potesse avere clienti oltre confine, anche se su questo elemento non vi è alcuna conferma da parte dei carabinieri. La droga è stata sequestrata in due operazioni differenti, distanti alcuni giorni l'una dall'altra e non collegate. La prima risale all'inizio della seconda settimana di settembre. Tra Alzate Brianza e Orsenigo, una pattuglia ha fermato per un controllo una persona sospetta, l'uomo, un operaio di 40 anni, aveva addosso 350 grammi di hashish. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 4,5 kg della stessa sostanza stupefacente e una grossa somma in contanti, 41.500 euro e 44.000 franchi svizzeri, per un valore complessivo di 77.000 euro. Proprio i franchi svizzeri, peraltro in grossi tagli, fanno immaginare che l'uomo potesse avere contatti con clienti elvetici, anche se, come detto, non vi sono riscontri in tal senso. La seconda operazione risale invece a due giorni fa. Una pattuglia del radiomobile ha fermato per un controllo a Durate Caccivio un'automobilista, un bergamasco del 1957, che guidava ad alta velocità trovando sul sedile posteriore 4 kg di hashish già divisi in panetti e confezionati in buste di plastica. In entrambe le operazioni, concluse con l'arresto dei protagonisti, i carabinieri di Cantù si sono avvalsi della collaborazione dei cani antidroga dell'unità cinofila della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso.